Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento di prima mattina con la nostra rassegna stampa. Il buongiorno insieme ve lo porge Giancarlo Rapagnà che è di là in regia. Andiamo a cominciare allora dando un'occhiata alle prime pagine del messaggero e del centro. Cominciamo con il messaggero. Eccoci qua, la prima pagina vedete l'apertura è dedicata ancora di nuovo alla pandemia, al Covid. Covid casi oltre quota 2000 in Abruzzo. Un nuovo picco di contagi giornalieri mai così male da aprile. Sono numeri preoccupanti, ammette il responsabile delle emergenze Franco Marinangeli. Il caldo non frena le varianti al momento. E così dunque 2384 nuovi casi, il dato più alto registrato negli ultimi due mesi, a spingere il contagio in questa nuova ondata, la prima estiva dall'inizio della pandemia, sono le due sottovarianti del virus, cioè Omicron 4 e 5, che secondo gli esperti sono responsabili di due terzi dei casi sul territorio regionale. Il contraccolpo lo vedete a Pescara, Omicron svuota gli uffici, i contagi tra i lavoratori, poi lo ritroveremo anche all'interno. E poi la fotonotizia, lo avrete sentito, ladri in villa per Verratti, una vacanza amara a Ibiza, tra denaro e gioielli, un bottino da 3 milioni di euro. Pensate a Verratti e a sua moglie mentre erano in vacanza a Ibiza. E poi vi adotti nessun rischio, una perizia scagiona strada dei parchi. Per il consulente del giudice non c'è pericolo di crolli evidenziati però ritardi nella manutenzione sull'autostrada A24. Gli ammaloramenti delle 13 opere oggetto d'indagine non sono stati tali da inficiare o rendere critico l'utilizzo dell'infrastruttura dal punto di vista della sicurezza. Così si è espresso l'ingegner Bernardino Chiaia, docente del Politecnico di Torino, consulente del GUP dell'Aquila Guendalina Buccella, nel processo sullo stato di salute dei viadotti del tratto aquilano dell'autostrada A24. A Teramo il Maxingorgo, un camion contro un ponte, il traffico in tilt per ore. Ce ne siamo occupati anche noi. Ieri Maxingorgo a partire dalle 10 in pieno centro a Teramo, lungo via Povia dei Gasperi, un camion avortato il cavalcavia con il braccio della gru danneggiando le travi in cemento armato, complesso l'intervento di soccorso dei vigili del fuoco. E poi Pescara, processo a dicembre, lo zio Orco sotto accusa per abusi sulle nipotine. L'edilizia qui a fondo pagina lancia l'Associazione Nazionale Costruttore Edili, strumento prezioso ma si rischia lo stop dei cantieri e cioè il super bonus. Adesso occhio ai rimbalzi per i blocchi che ci sono in questi ultimi tempi. Di spalla poste italiane dall'autunno anche luce e gas allo sportello e poi i titoli sotto la testata qui sopra nel soppalco. La leggenda, addio a Sergio Del Grande, papà del rugby aquilano. Palla nuoto, il settebello oggi a Catania, primo match ball per la promozione e infine il calcio di serie C. Pescara dal Padova arriva della Latta, Sorrentino in A, in serie A. Blitz è di Delicare, il direttore sportivo Biancazzurro, scambio alla pari con De Marchi, il portiere andrà al Monza. Teramo, ora si fa dura, ancora un rinvio del Tribunale per lo sblocco delle quote e poi ritroveremo questi argomenti sfogliando il giornale. Lasciamo adesso la prima pagina del messaggero, andiamo a vedere che cosa ci propone il centro nell'edizione di Teramo del quotidiano abruzzese. Agricoltura in ginocchio per la siccità, il titolo di apertura della prima pagina. Teramo e provincia, crollate le produzioni, CIA e Coldiretti dicono subito gli aiuti. Fotonotizia, la polizia attenti alle truffe in vacanza, come difendersi? Parte la campagna della Pol Post, la Polizia Postale, sui rischi nelle prenotazioni. E poi vedete qui a sinistra la pandemia in Abruzzo, Covid, i contagi a quota 2.300, parruti, salgono anche i ricoveri e il dato più alto da aprile, non se ne registrano appunto così tanti da fine aprile durante l'ondata di Omicron 2. Donna denuncia una violenza dopo un viaggio, Teramo il caso, poi lo ritroviamo all'interno. Il Polo Execir su venduto per 19 milioni, Teramo la mega discarica di rifiuti va alla CEA di Roma che ha rilevato parte della Deco. E poi anche qui in prima pagina sul centro, Verratti derubato di 3 milioni il calciatore pescarese nella villa di Ronaldo e l'Azzurro e la moglie in vacanza a Ibiza, spariti, soldi e gioielli, il tutto per 3 milioni, per un valore di circa 3 milioni di euro. Colonnella, licenziati 63 operai, cala il sipario sull'ATR. Calcio l'iscrizione, il Tribunale prende tempo sul futuro del Teramo. E poi qui vediamo sorridere il regista e attore Richi Tognazzi, nell'inserto L'Aquilone, per quanto riguarda gli spettacoli, musica, teatro e cinema. Ecco l'estate in Abruzzo, Richi Tognazzi, Enrico Vanzina, Donatella di Pietrantonio e Remo Rapino, gli ospiti di punta di Aspettando, Roseto, opera prima appunto. Uno dei tanti appuntamenti dell'estate abruzzese. E poi il rapporto economia-Banchi Italia, l'Abruzzo in crescita, ma adesso c'è l'allarme rincari. E poi guerra, scenari, draghi, il G20 senza Putin, la Russia risponde, non decide lui. Bene, abbiamo visto la prima pagina del centro, andiamo a sfogliarlo insieme, poi torniamo al messaggero. Il rapporto annuale sull'economia-Banchi Italia, l'Abruzzo cresce, ma incombe l'effetto guerra. Nel 2021 dati in rialzo su export, posti di lavoro, redditi delle famiglie e delle imprese. Il direttore Giuseppe Ortolani dice i rincari energetici e le difficoltà di riperimento di materie prime pesano molto. E poi l'occupazione è cresciuta e le famiglie abruzzesi sono tornate a spendere grazie alla ripresa del mercato del lavoro e alle misure di sostegno pubblico. E poi in questo specchietto appunto l'economia abruzzese nel 2021 nel report di Banca d'Italia. Qui sotto la politica Regione Taglieri, capogruppo del Movimento 5 Stelle Abruzzo, l'addio di Sara Marcozzi al Movimento Cambia gli Assetti all'emiciclo, quindi in Consiglio regionale. E Fratelli d'Italia guarda avanti con ottimismo. Sigi Smondi, che è il coordinatore regionale, dice il centrodestra unito, vince dappertutto. Abruzzo, i rischi da evitare e prenotare la casa, vacanze online, i consigli antitruffa, troppe truffe in vacanza. La polizia, ecco cosa fare. La campagna della Pol Post, la polizia postale per aiutare a stare alla larga dai tentativi di raggiro. Attenzione agli annunci poco chiari a chi chiede la caparra tramite bonifico. Andiamo avanti. Coronavirus, la situazione in Abruzzo. I contagi risalgono a quota 2.300. Parruti, dice, ora crescono i ricoveri. È il dato più alto degli ultimi due mesi, il primario. I reparti non sono ancora pieni, ma il numero sale. Lo studio, l'80% dei pazienti positivi va in ospedale per altre patologie. L'età media oggi è di 75 anni. E nello specchietto i casi registrati ieri in Abruzzo, per quanto riguarda le province, 509 all'Aquila, 669 casi a Chieti, 539 a Pescara e 541 in provincia di Teramo. E poi a fondo pagina Veri, l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verini, pronto soccorso situazione critica. Abruzzo, l'assessore alla salute, dice abbiamo previsto incentivi economici per i medici dell'emergenza. La regione sta seguendo da mesi le criticità dei pronto soccorso nei nostri ospedali, mettendo in campo una strategia di intervento con azioni, sia a breve che a medio e lungo termine. E poi gli scenari internazionali per la guerra tra Russia e Ucraina, G20 senza Putin, Draghi Gela Mosca, il premier italiano dice l'Indonesia è stata categorica su questo, ma il Cremlino replica, non è di certo lui a decidere cosa accadrà. Poi le altre notizie di carattere internazionale e nazionale, per quanto riguarda il governo, il superbonus, stoppa una nuova proroga, lo scontro sulla misura, braccio di ferro con i partiti, i fondi a disposizione sono finiti, adesso si tratta sul possibile ampliamento delle cessioni. E andiamo alla prima pagina della cronaca di Teramo, rifiuti la mega discarica di Grasciano, il polo ex CIRSU venduto per 19 milioni di euro. Se lo aggiudica il gruppo romano Acea che ha rilevato parte del gruppo DECO nell'ambito della procedura fallimentare la nuova mega discarica, lo vedete a sinistra del polo ex CIRSU a Grasciano e in alto invece il giudice delegato Giovanni Cirillo, davanti a cui è stata definita la vendita del polo ex CIRSU. Il nuovo impianto è già pronto e ha una capacità di oltre 300 mila metri cubi, attualmente è l'unico di queste dimensioni presente in tutto l'Abruzzo. Intanto in arrivo un altro ricorso in Cassazione sul concordato. Andiamo avanti, parco fluviale, siamo a Teramo, aggiudicati i lavori, a luglio parte la riqualificazione, il progetto da 1,2 milioni. Per ora il via al primo lotto sarà demolita e poi ricostruita la casetta di via Vecchio Mattatorio. Al ponte a catena sorgerà una capanna di canapa, nuovi attraversamenti e segnaletica alla CONA e nell'immagine un rendering di come verrà un angolo del parco fluviale e poi la casetta che verrà demolita. Proteste a Isola del Gran Sasso, niente soldi a scrutatori e presidenti di seggio. E poi di nuovo Teramo, camion danneggia le travi del cavalcavia, l'incidente nel viadotto che collega via Verardi con il lungo fiume, chiusa via Maestri del lavoro. Avete la fotografia in questo caso con i Vigili del Fuoco al lavoro per stabilire anche l'entità del danno. Comunali del 2023 a Teramo, al via le grandi manovre per un nuovo centro, azione, sarà in campo da sola o all'interno di un polo civico? Il partito cerca alleati ma non esclude un suo candidato. Nelle fotografie legate a questo articolo vedete in senso orario da sinistra pomante di Timoteo, Forlini e Cordoni. E poi a Cavuccio scatta il test della peste suina sulla carcassa di un cinghiale che è stata rinvenuta lunedì sera lungo la provinciale per Torricella nei pressi di Cavuccio. E poi il grande caldo, le conseguenze del grande caldo. Si cita crollo del 15% delle produzioni agricole e allarme per i vigneti. Al rischio c'è anche il 40% delle coltivazioni di semini autunnali. L'appello della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori e della Coldiretti, subito interventi. Categoria in ginocchio, nelle fotografie a sinistra. Emanuele Ripani, presidente provinciale della Coldiretti e Donato Di Marco, direttore della CIA. Qui sotto invece parliamo del parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Tudisco degli usi civici dice sentite anche noi per il parco la nomina del nuovo presidente del Gran Sasso Laga. Come amministrazioni separate dai beni di uso civico siamo preoccupati sulla nomina del futuro presidente dell'ente parco Gran Sasso Laga e chiediamo al fine di risolvere i problemi che si sono creati negli anni che vengano ascoltati anche i nostri rappresentanti a scrivere appunto. E' pari detudisco presidente ASBUC di Pietra Camela e dell'associazione usi civici Teramani che racchiude 9 ASBUC del Teramano. Lo fa in vista della nomina del nuovo massimo rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta dopo il termine del mandato di Tommaso Navarra e con la presidenza pro tempore di Donatella Rosini. Intanto al liceo classico per il premio del palazzo domani la scadenza per la partecipazione. Sull'ATR è calato il sipario. Siamo a Colonnella, la fabbrica ATR. Effettivi i 63 licenziamenti. Cessati definitivamente lunedì i rapporti di lavoro nell'azienda di Colonnella. Polemici i sindacati. La classe politica di ogni colore si è mostrata incapace. Qui sopra la cronaca torna dal viaggio e denuncia una violenza. Le accuse di una donna fanno scattare le procedure del Codice Rosso. Indagano i carabinieri. E poi gli eventi della provincia. Pineto e Notaresco ricordano i giudici Falcone e Borsellino. E poi torniamo al sindacale. Scusate per un'altra questione. Qui in questo caso parliamo dell'Istituto Zooprofilattico. La protesta davanti al Ministero della Salute e i precari dello Zooprofilattico chiedono l'assunzione. Vedete in questa fotografia i precari dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo durante la manifestazione ieri a Roma. Velocità in montagna ad Ascoli. Cambiamo nettamente argomento. Coppa Teodori, Bene Teramani, sul podio Il Giovane al Monte, gli esperti Gramenzi e Di Giuseppe. E poi venerdì a Teramo cena con artisti per beneficenza. Saranno raccolti fondi per fare una colonia marina per disabili. Giriamo pagine. Andiamo a Martinsicuro, alla nuova giunta comunale in continuità con la precedente. Tutti confermati, tranne i camaioni. Al suo posto c'è Alessandra Pulcini che continuerà da assessore il lavoro già svolto in precedenza sull'urbanistica. Il sindaco Vagnoni dice ho considerato le competenze oltre ai voti presi. Avete nella foto appunto il sindaco Massimo Vagnoni, il quarto da sinistra, con gli assessori da sinistra Cappellacci, Tommolini, Persiani, Pulcini e Monti. Qui sopra Sant'Egidio alla vibrata, perseguita una donna, il giudice gli vieta di avvicinarla. Al comune di Albadriatica rinnovati i progetti utili del reddito di cittadinanza. E poi a Martinsicuro un brutto episodio, atto di vandalismo contro il lido dei disabili, imbratta di notte vetrate, tavoli e poltrone dello stabilimento ripreso dalle telecamere. Dunque si potrà intervenire, vedete nelle fotografie, Daniela Corsi dell'Anfas di Martinsicuro e due immagini del danneggiamento alle vetrate e alle poltrone dello stabilimento La Rosa Blu. Intanto a Tortoreto, progetto rinnovato e detenuti puliranno i giardini pubblici. E adesso andiamo a Giulianova. Il nuovo ITER, tempi più lunghi, mercato ittico. Per la gestione è necessaria una gara europea. L'annuncio della segretaria comunale durante il Consiglio che ha approvato il nuovo regolamento. La minoranza in Consiglio Comunale di Giulianova dice che il consorzio doveva essere pubblico o privato. Giorgini, per questo, c'è l'ente porto. Il comune di Giulianova ipotizza un affidamento temporaneo di quattro mesi e nel frattempo redigerà il nuovo bando. Poi in via Traversa Mari una pietra d'inciampo per il disperso Stacchiotti. Una pietra d'inciampo sarà collocata in via Traversa Mari davanti a quella che fu l'abitazione di Luigi Stacchiotti, artigliere nato a Giulianova nel 22, catturato dopo l'8 settembre e disperso, forse sul fronte russo, nel maggio del 45. E poi le polemiche per Palazzo Gavioli. Interviene il cittadino governante con Franco Arboretti. Palazzo Gavioli non si deve fare. Il cittadino governante ribadisce l'edificio accanto al Cursal è impattante. Il gruppo politico ricostruisce la storia dell'immobile in un comunicato stampa e dice sono state cambiate prima dal centrosinistra e poi da Costantini le norme su cubatura e distanze. Dunque, secondo il cittadino governante, non si deve fare Palazzo Gavioli. Il trasferimento a Lido domani 8 vigili nell'area del mercato settimanale perché domani è la fatidica data del ritorno verso est del mercato settimanale del giovedì a Lido, a Giulianova e Lido. Andiamo avanti. Siamo a Roseto. Mobilità, le nuove soluzioni. L'ex area Castelli sarà riaperta a 300 posti auto gratuiti. Per l'estate ovviamente è sempre avvertito il problema dei parcheggi anche a Roseto. Accordo tra l'amministrazione comunale rosetana e i privati proprietari della zona sul lungomare nord. Il sindaco Nugnes dice per quella parte del territorio stiamo studiando un piano di sviluppo integrale. E poi riapre dopo sei anni villa comunale, giardino pulito e palco sistemato per gli eventi che si svolgeranno all'interno del parco della villa comunale di Roseto che dopo sei anni riapre al pubblico il parco. Strice blu in funzione alle 40 colonnine a Roseto per i parcheggi a pagamento introdotta anche la tariffa di 50 centesimi per 30 minuti. E poi la cerimonia in municipio a Roseto giurano le nuove guardie ambientali nella fotografia insieme al sindaco Nugnes. In questa fotonotizia due gemellaggi per il centro Anziani di Roseto con Fabrica di Mare e Fiuggi. E giriamo ancora pagina. L'idea è un unico super comune. Fusione tra Atri, Pineto e Silvi. I promotori incontrano i sindaci. Il gruppo riferisce. Ferretti e Scordella ci hanno ascoltato con attenzione e valuteranno l'ipotesi. Speriamo che Verrocchio faccia lo stesso. È l'unica possibilità per rilanciare il nostro territorio. Quindi due sindaci su tre del comprensorio dalle terre del Cerrano si dicono disponibili a considerare la fusione territoriale dei loro comuni. A lanciare la sfida prevista e disciplinata dalla legge numero 56 del 2014 che detta alle disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni è stato mesi fa Massimo Spezialetti, coordinatore del gruppo Incontri a distanza che, nato ad Atri durante la pandemia, ha poi allargato sia i cittadini di Pineto e Silvi, ha avviato un esame sulle possibilità di accorpamento dei tre comuni. E poi siamo a Silvi, lungomare, la segnaletica da migliorare. Silvi, l'opposizione, manca la linea di mezzeria, ci sono problemi per passaggi pedonali e parcheggi. A Pineto attacco all'amministrazione Fratelli d'Italia, Borgo Santa Maria è in abbandono. E poi sempre a Pineto Italia Viva chiede un tavolo sul pericolo, carenza idrica. E adesso un titolo delle altre realtà provinciali sul centro, la polemica bocciato, siamo a Pescara, bocciato il progetto per l'ex Cofa, il rettore dice adesso voglio gli atti, il futuro dell'area abbandonata. L'Aquila, le scelte sul futuro, città della conoscenza, nasce un campus per la ricerca nell'ex ospedale psichiatrico, il progetto SEIC del Gran Sasso Science Institute, tra i primi dieci in graduatore su oltre 350 proposte, pronti 19 milioni del PNRR dall'Agenzia per la coesione territoriale, valorizzata anche l'ex Reis Romoli. Siamo a Chieti, sanità e disagi, incontro con i sindaci, ospedale, la ASL fa marcia indietro, il reparto di geriatria resta aperto. E poi le pagine degli spettacoli, l'inserto L'Aquilone, tanti spettacoli e appuntamenti in Abruzzo, intanto al Via la Rassegna, Roseto Opera Prima, da Tognazzi a Vanzina, Roseto Opera Prima, inizia il conto alla rovescia. E poi il programma della terza giornata, Pescara, il Flaiano Film Festival, tra corti e lungometraggi. Ancora Pescara come Ibiza, allenaia di parte la stagione di feste e grandi DJ. E poi un concerto gratuito a Pescara, Richard Bona, un basso che parla la lingua universale della musica. Tornano i paesaggi sonori, l'armonia tra musica e natura, trekking e più concerto al tramonto nei più affascinanti teatri naturali abruzzesi. Si apre domenica con le sonorità d'acqua della giapponese Tomoko Savage. E siamo allo sport, verrà derubato spariti soldi e gioielli per 3 milioni. E poi la Serie C, le trattative Pescara, soldi e rinforzi per Sorrentino, Almonza, il club di Berlusconi paga un milione più sommariva, il greco Siatunis e Lombardi. Due scambi della Latta dei Marchi col Padova e l'Escano Clemenza con Lentella. E poi la storia Fagioli vede la Bia, una favola con il lieto fine, per due volte sul punto di smettere ora il centravanti pennese del Lancone a un passo dal Brescia. Il Teramo, iscrizione in bilico, il Tribunale prende tempo, altro rinvio per il Teramo. I magistrati romani si pronunceranno la prossima settimana sull'istanza di dissequestro dei beni presentata dai Ciaccia e il club aspetta la Covisoc. E poi la gara 2 della finale playoff, siamo alla Pallannuoto, il Pescara oggi a Catania e in palio la promozione in Serie A2 di Pallannuoto. Basket giovanile, l'Under 17 della Virtus Roseto è tra le prime, 12 in Italia, complimenti. E poi il volley giovanile, trofeo delle regioni, l'Abruzzo al Via con due vittorie e due K.O. E infine, per quanto riguarda il calcio direttante, il notaresco Giulianova stoppa lo scambio dei titoli sportivi. Vediamo, l'operazione sarebbe al momento congelata. Problemi di natura burocratico potrebbero far saltare lo scambio dei titoli sportivi tra il notaresco ed il Giulianova. Poi vedremo anche sul messaggero le novità su questo. Lasciamo il centro e andiamo proprio a sfogliare il messaggero. Abbiamo dato un'occhiata alla prima pagina, andiamo subito all'interno. Il nodo autostrade, A24 e A25, perizia sui viadotti, nessun pericolo di crollo, la relazione del consulente e del giudice, difetti macroscopici ma spesso cosmetici. Scagionata in parte anche strada dei parchi, lavori, qualche ritardo ma esecuzione ok. Secondo l'ingegner Chiaia, non compromessa la sicurezza e la funzionalità delle opere. Qui sopra, Covid, 2.384 nuovi casi ieri in Abruzzo, dato più alto da due mesi l'appello di Marinangeli a stare attenti. E poi l'economia, il 2021 ha cancellato la pandemia, PIL più 6,3% in crescita. Anche l'Export Banca d'Italia ha presentato il rapporto annuale sulla situazione della regione. Pescara, la variante Omicron, svuota gli uffici, contagi in crescita tra i lavoratori. La ripresa dell'epidemia comincia a creare problemi soprattutto nel settore pubblico. A un giorno, dallo stop a uso di mascherine e smart working, si temono effetti su produttività, servizi. In arrivo i dati IMSS, l'Aquila, due nuovi poli di innovazione a Reis Romoli e Collemaggio. Grazie ai 36 milioni ottenuti su richiesta dell'Università dell'Aquila e Gran Sasso Science Institute, sono gli unici progetti in Abruzzo a essere stati ritenuti ammissibili. E poi Regbi passa la palla, una delle leggende, il mitico Sergio Del Grande è morto all'età di 89 anni all'ospedale San Salvatore, funerale alle 11.30 a Collemaggio. Chieti, geriatia non chiude, ecco i soldi, Ferrara boccia il metodo Shell. Il sindaco ieri in riunione con il Comitato Ristretto, un progetto non condiviso, nato nelle stanze della Asla. L'amarezza sui social dell'ex assessore Cascini, scritta una brutta pagina in Consiglio Comunale. E siamo a Teramo, l'ex discarica CIRSO acquisita dal colosso Acea Ambiente, operazione da 19,1 milioni. Battute quattro società, la Multi Utility Romana adesso punta al rilancio del sito. Si chiude un calvario giudiziario durato 16 anni, 20 minuti di asta con alcuni momenti di tensione. E poi vedete qui sopra la notizia di tutt'altro tenore, ovviamente musicalmente 2022, oggi alla Sala Ipogea di Teramo e domani al Chiostro degli Zoccolanti di Montorio, sempre alle ore 19, dunque gli spettacoli estivi. Al via i lavori della rotondina Teramo, disagi al traffico e nuovi flussi appunto stamattina. Occhio i lavori di riqualificazione al via Stamani, della piccola rotonda provvisoria tra Ponte e San Gabriele, circonvolazione Ragusa. E poi il commercio, fornitori in difficoltà, mancano i prodotti dal Gaviscon ai dolci, nei bar, passando per le bici elettriche, molti esercenti sono in crisi. Sempre Teramo, camion, urta, viadotto, travi danneggiate, per i rilievi occorreranno ancora giorni, la circolazione potrebbe risentirne. Giulianova via libera al nuovo mercato ittico. In Consiglio Comunale passa il regolamento di gestione del Consorzio, per ora affidamento limitato a quattro mesi, poi ci sarà la gara. Si punta al ritorno dei pescherecci da San Benedetto, domani altro appuntamento atteso con gli ambulanti rionali. Dunque varato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento di gestione del Consorzio che gestirà il mercato ittico. Nel Consiglio d'Amministrazione, fatti salvi alcuni adempimenti, è entrato anche l'enteporto il Presidente Resta, Nino Bertoni. E poi, sempre a Giulianova, nasce dormitorio comunale tra lo stadio e un bar. Polemiche sulla localizzazione nell'edificio che si affaccia tra l'esercizio e lo stadio Fadini. E poi, Roseto Opera Prima, c'è anche Tognazzi, a pochi giorni dall'inizio del Festival Abruzzese, diretto da Pino Strabioli, arriva anche Ricchi Tognazzi ad arricchire il programma di Aspettando Roseto Opera Prima, la parte dedicata alla letteratura, alla musica e al food, che prenderà corpo dal 5 luglio nella Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi per passare il testimone, poi il 15 luglio, alla Kermesse cinematografica Roseto Opera Prima, fino al 19 luglio. E poi, estate dove, 1 e 2, omaggio a Pasolini, il ritorno del Carnevale. Quindi, eventi all'insegna di cultura, sport e cabaret, con comici di livello nazionale, grande divertimento con il ritorno, dopo due anni di stop per Covid, del Carnevale estivo sull'intero lungomare Marconi, ma senza carri, questo ad Alba Adriatica. E poi, spiagge sicure, partono i controlli con più vigili, questo a Tortoreto. E poi, a Martinsicuro la politica, Vagnoni, nuova giunta nel segno della Conte Unitarie. E ha presentato gli assessori, la squadra, la giunta. Il sindaco rieletto ha presentato la squadra di governo, Persiani, vice, novità, Pulcini. E dunque, questi gli articoli di quanto riguarda la cronaca. Andiamo adesso a vedere cosa ci propone il messaggero nelle pagine dello Sport. Affare del Pescara, preso della latta. Blitz del direttore degli carri con il Padova. Scambio alla pari con De Marchi per la Mezzala. Il portiere Sorrentino va al Monza in Serie A, bruciata la concorrenza della Salernitana. Il mio acquisto ha una lunga esperienza da professionista. Quest'anno ha giocato 37 partite e segnato 6 gol con i Veneti. E poi, anche sul messaggero, Verratti furto record a Ibiza. Maxi colpo nella casa in affitto di Ronaldo. Il fenomeno del campione pescaresi. Il bottino al Monterebbe a circa 3 milioni di euro, che sono davvero tanti. Settebello, la palla a nuoto. Il Pescara, primo matchball per la promozione. Oggi alle 14.30 a Catania. I biancazzurri, battendo la polisportiva acese, hanno la possibilità di approdare. In Serie A2. E ancora la Serie C di calcio. Il Teramo. Un altro rinvio. Quote ancora congelate. Il Tribunale di Roma ha spostato alla settimana prossima la discussione e la decisione sull'istanza presentata da Davide Ciaccia qualche giorno fa. In stand-by c'è anche la parte tecnica. Mister Pokesci resta il favorito in caso di società rilevata da Spinelli. Quindi il Tribunale di Roma ha rinviato alla settimana prossima la discussione e relativa decisione sull'istanza presentata da Davide Ciaccia qualche giorno fa, che aveva come obiettivo la possibilità di sbloccare la situazione legata alle sorti del Teramo. Staremo a vedere, ho letto un pezzo, dell'attacco del pezzo di Jacopo Frcella sul messaggero. E poi i direttanti. San Buceto conferma Ronci, ha nel mirino la punta Sparvoli. Giulianova oggi il via libera della Lega di Serie D. Grande entusiasmo tra la tifoseria. Il mercato già lanciato. Quindi dubbi sull'operazione di scambio tra Notaresco e Giulianova sul centro. Qui invece si brinda già alla Serie D a Giulianova. Lunedì a mezzogiorno, leggiamo anche qui l'attacco del pezzo di Francesco Marcozzi, lunedì a mezzogiorno l'accordo tra Giulianova e Salvatore Giovanni è stato confermato con il coinvolgimento del Notaresco per quanto riguarda l'eccellenza. Notaresco che si è impegnato molto in questa vicenda grazie all'impegno del sindaco Diego di Buonaventura che si è sempre battuto per fare in modo che il calcio non finisca nella sua città con l'abbandono di Giovanni. E' stato lui stesso a rendere noto in un documento i particolari dell'operazione. L'ultimo passaggio adesso è il visto della lega di Serie D che però è a conoscenza di quanto sta avvenendo ma vorrebbe sapere i particolari che potrebbero essere inviati domattina con PEC per evitare qualsiasi intoppo burocratico che non riguarderebbe la cessione del titolo di Giovanni al Giulianova ma la situazione societaria del Giulianova rispetto a quella del Notaresco che hanno ovviamente matricole diverse ma sulla bontà e la liceità dell'operazione nulla viene messo in dubbio e dunque la felicità dei sostenitori. Bene, credo sia proprio tutto. Sì, non ci sono altri articoli, possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa e ringraziare dell'attenzione. Vi ricordo alle 9 il prossimo appuntamento, tanti ne seguiranno, la nostra informazione ovviamente con la prevenzione del TGL14 ma alle 9, in diretta dalle 9 alle 9 e mezza, non perdete a colazione. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti.